Goran Volarevic, arrivi finalmente a Recco dopo un lungo giro d'Italia, che cosa significa per te? Sicuramente una soddisfazione, perché alla fine giocare per Recco è un'emozione e anche un prestigio. Spero che si continua questo percorso di Recco, che questi anni ha dimostrato che è una delle squadre più forti, se no anche più forti al mondo. Allenarsi con Tempesti tutti i giorni, quindi quotidianamente in un club, che cosa vuol dire per te? E' un piacere sicuro, con un campione come Tempesti che ha dimostrato una continuità di 15-20 anni che sta parando in questo livello. Penso che è un piacere e una soddisfazione che posso dividere allenamento e anche rapporto con lui. In Champions League si torna a giocare a Dubrovnik, dove hai vinto tutto, dove sei partita la tua straordinaria carriera. Sarà una grande emozione? Sicuramente sì, anche se sono passati tanti anni, dieci anni fa che sono partito da Dubrovnik, ma sicuramente è sempre un piacere tornare giù adesso come avversario con una squadra fortissima e spero che si vinca giù.